In un momento in cui le banche ti allontanano un po' dalla filiale, vogliono che tu lavori comunque da remoto, il contatto con il cliente viene ancora ricercato? Ma noi siamo fautori di questo, infatti ci teniamo da conservare la nostra rete fisica, a rafforzarla, a dare un servizio migliore, a avere filiali più strutturate che consentono di avere dentro più specialisti, preparare la clientela, ma facciamo del contatto umano un po' la nostra bandiera. L'essere banca locale significa il cliente, il socio, conoscerlo, viverlo nella loro quotidianità, essere insediati sui territori e non a caso la banca poi ha le sue 50 filiali e lavora con 360 persone con una rete fisica che le consente di essere vicina ai bisogni di imprese e famiglie su tutto il nostro territorio. Tutto questo, quindi la piccola banca locale, come viene inserita nel progetto ICREA di un SPA che in qualche modo protegge tutto il gruppo? Sì, io direi che la capogruppo è veramente una sovrastruttura per tutte le banche e consente a tutti di avere ancora più tranquillità e sicurezza perché le capogruppo bancari nascono legislativamente nel 2016 con la riforma del sistema del mondo cooperativo per dare a livello di sistema una maggior sicurezza a tutte le BCC che conservano, nel momento in cui hanno numeri sani come la banca tema, la propria autonomia sui territori. Quindi abbiamo alle spalle un grande gruppo bancario che per inciso è il terzo gruppo bancario italiano, però abbiamo l'autonomia all'interno della piccola banca locale che nel suo territorio è libera di gestire le sue condizioni, i suoi rapporti con i clienti e su questo quindi di impostare una relazione che è tutta volta ai singoli bisogni e ha un rapporto di essere sempre più specialistici e sempre più dati della incisività dei comportamenti che i singoli possono avere. Noi su questo credo facciamo tutti i giorni da nostra parte perché abbiamo una serie di prodotti calibrati specificamente per le nostre terre. A proposito di prodotti per la terra, l'attenzione green della vostra banca in cosa si sostanzia? Mi fa piacere ricordare un dato prima di tutto. Noi siamo stati nel 2004 con l'allora BCC, le prime banche a sottoscrivere la Convenzione Collega Ambiente, poi le fonti rinnovabili. Erano gli anni pienerissimi del fotovoltaico, del solare termico, poi ci siamo accorti che non bastava solo produrre energia pulita, bisognava anche risparmiare. Da lì quindi la lotta agli sprechi, coibentare gli edifici, fare cappotti termici, quindi operare sul risparmio delle fonti di energia e non solo sulla produzione pulita. Siamo arrivati quindi al mondo della sostenibilità e su questo abbiamo poi creato prodotti specifici anche per la parte del mondo agricoltura per tutelare il patrimonio boschivo dagli incendi, tutelare l'agricoltura con gli invasi e ci siamo spinti poi tutto il mondo, dei nuovi prodotti green che contengono quindi solare termico, eolico, fotovoltaico con finanziamenti specifici, in un contesto però macro di sostenibilità e attenzione al territorio che passa da tutti gli aspetti, risparmiare nel consumo, consumo intelligente e produrre energia pulita.